Si aprono le gabbie, partiti i cavalli del premio Enzo e Tullio May edizione 2024. Buona partenza un po' per tutti, vediamo chi emerge dal gruppo, dall'esterno proprio Final Credit che pur non particolarmente intenzionato a tirare dritto si ritrova in vantaggio nei confronti di Le Bagarre Zittella in quarta posizione Re di Maggio con la giubba azzurra e nera. Poi percorsi esterni con la giubba rossa troviamo Magic Show anticipato appunto dalle bagarre, il quadro è completato a Theater Lodge, De Volvido, River Spirit, Parco Sempione, Pasquino e Last Born a chiudere il drappello dei partecipanti. Tre quarti della piegata è posta, percorsa senza forzare la mano da parte di Final Credit che è comunque il leader. Le Bagarre galoppa in seconda posizione al suo esterno con la giubba gialla in terza posizione, c'è una delle più attese, Zittella a precedere un terzetto formato da Re di Maggio, Soligo e Magic Show. A precedere una coppia formata da De Volvido, Theater Lodge e poi ancora Parco Sempione, River Spirit, Last Born e Pasquino in ultima posizione. Si entra in dirittura d'arrivo con un ritmo che è stato abbastanza lento nella prima fase di gara. Adesso Final Credit prova ad incrementare i giri del motore, stessa cosa che fanno gli inseguitori con Zittella che segue dall'interno, all'esterno Le Bagarre. Ha trovato un ottimo varco Soligo con Re di Maggio che è ancora all'interno. Poi in quarta corsia c'è Magic Show accompagnata all'esterno da Theater Lodge, dietro a questi c'è anche River Spirit che deve trovare lo spazio. Poi Parco Sempione, De Volvido e tutti gli altri. Quando siamo a 400 da traguardo però c'è il leggero vantaggio Magic Show dall'esterno. C'è l'avanzata clamorosa da parte di Last Born che perviene sulla prima linea. Soligo invece ha trovato un varco millimetrico all'interno. Soligo adesso è il nuovo leader e decide di andare di dentro. C'è stato anche un piccolo cross con Magic Show che prova ad intervenire. Soligo vince nei confronti di Magic Show e Zittella. Ma c'è da rivedere sicuramente il contatto che c'è stato. Ma ovviamente non abbiamo la frontale, fra poco lo avremo. L'idea che ci sia stato qualcosina. Comunque sul traguardo vince Soligo con Pasquale Borrelli che dall'interno batte Magic Show. e per il terzo numero uno di Zittella. Qualora tutto venisse confermato per Soligo sarebbe la vittoria numero sette in carriera. Eccola, questo è il momento chiave. C'è stata una deviazione, non sappiamo quanto da parte di Soligo quanto da parte di Magic Show. Quindi attendiamo le decisioni sul traguardo. 6-9-1 è l'ordine d'arrivo provvisorio per ora. Da Capanelle per la quarta è tutto. Grazie a tutti. Grazie a tutti